Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it questo tutorial è un tutorial extra rispetto al corso di montaggio video con Adobe Premiere che stiamo facendo ormai da diversi mesi ed è un corso dedicato in particolar modo a un problema che spesso chi lavora con Premiere deve affrontare almeno una volta nella vita ovvero il problema dei media cosiddetti offline vedremo un attimino meglio tra poco di cosa stiamo parlando sarà disponibile come sempre sul mio sito internet www.fabioambrosi.it un articolo in cui illustrerò nel dettaglio tutto quello che andremo ad affrontare in questo tutorial quindi se vi fa piacere, volete al volo recuperare qualche informazione venite pure a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it così come sul sito è disponibile l'intero corso di montaggio video con Adobe Premiere che settimana dopo settimana stiamo portando avanti come potete vedere molti argomenti sono già stati trattati molti altri ancora restano da affrontare quindi se avete voglia fate una capatina sul sito e date uno sguardo ai video tutorial del corso di montaggio video se avete voglia iscrivetevi anche al mio canale youtube così da non perdere nessuno dei video di prossima uscita salutiamo Valentina, salutiamo Giovanni, salutiamo tutti i nuovi iscritti benvenuti e senza perdere altro tempo torniamo a Premiere e vediamo meglio questa benedetta questione dei file mancanti dei media file offline andiamo in Premiere eccoci in Adobe Premiere allora questa è una situazione di prova una situazione di test in cui sostanzialmente in timeline ho messo una clip video molto semplice un semplice coccodrillino e sul monitor sorgente ho messo la solita clip della macchinetta del caffè che tira fuori il caffè non è importante nella maniera più assoluta perché oggi voglio farvi vedere cosa accade a molti montatori, più montatori di quello che pensate quando per qualunque motivo devono risolvere il famoso problema dei media offline facciamo un esempio ecco il problema che dobbiamo affrontare quest'oggi questo è il famoso cartello rosso di cui vi stavo parlando poc'anzi può capitare mentre si lavora in realtà non dovrebbe capitare però può capitare che a un certo punto quando si riapre un progetto perché magari lo si è tenuto da parte per diverso tempo oppure quando si deve lavorare ad un progetto di un nostro collega o viceversa quando passiamo un nostro progetto a qualche nostro amico può capitare una situazione del genere ovvero degli schermi rossi sostanzialmente con la scritta media offline come potete vedere in diverse lingue questo ha enfatizzare se volete ancora di più il fatto che è un problema abbastanza grave che cosa ci sta dicendo Premiere con questi cartelli rossi che sostanzialmente è venuto a mancare il collegamento il link simbolico tra questi che sono gli oggetti multimediali contenuti nel nostro progetto e il file fisico presente sul nostro hard disk lo abbiamo già spiegato nel corso di montaggio video con Premiere in poche parole Premiere per poter lavorare i vostri file crea un collegamento quando voi andate a lavorare queste clip in timeline piuttosto che con gli effetti in realtà non state modificando i veri file presenti sul vostro hard disk semplicemente Premiere crea un collegamento ai file sorgenti alle clip sorgente che dovete lavorare e su quel collegamento che potete vedere essere qui rappresentato da questi oggettini applica effetti transizioni trim e quant'altro i file originali chiaramente restano sul vostro hard disk quando compare questo cartello rosso con la scritta media offline Premiere ci sta informando che questo collegamento tra gli oggetti presenti nel progetto e i file veri fisici presenti sul vostro computer è venuto a mancare in altre parole Premiere ci dice guarda che io non riesco a trovare i file originali da cui prendere le informazioni per il video per l'audio per le immagini e quant'altro c'è un problema devi risolverlo altrimenti io non posso andare avanti infatti vedete che montare chiaramente diventa impossibile non solo c'è anche la possibilità che Premiere ci informi di questo mancato collegamento direttamente con con una schermata la schermata eccola qui che conferma sostanzialmente quello che noi stavamo dicendo in altre parole come potete vedere Premiere ci sta informando del fatto che questi tre file ok sono spariti dal percorso in cui lui era solito andarli a trovare e quindi bisogna fare qualcosa bisogna ricollegare i cosiddetti file multimediali ai file veri e propri presenti sul nostro computer come si fa? allora se aprendo un progetto vi compare subito questa finestra la soluzione è abbastanza semplice per poter risolvere il problema dei file offline basta leggere intanto quello che ci dice Premiere ci informa di quali sono i file che necessitano attenzione se guardate in basso c'è un bottone chiamato individua cosa vuol dire individua? vuol dire che Premiere ci dà la possibilità di andare fisicamente manualmente a cercare questi tre file e ripristinare il link il collegamento clicco chiaramente mi viene proposta un'altra finestra in cui Premiere mi dice guarda che io stavo cercando questi file multimediali dentro al percorso tutorials media offline e questo è il file che stava cercando non lo trovo dove devo andare a prendere esattamente questo file allora noi aiutiamo Premiere io so che questi file li ho spostati per simulare questo problema ma si trovano dentro la cartella temp ripeto l'ho simulato ma voi dovete navigare nel vostro computer fino a individuare la cartella contenente i vostri file se questo bottoncino non è spuntato il mio consiglio è di spuntarlo perché in questo modo potete visualizzare soltanto i file identici quelli che stiamo cercando in questo caso questo file qui clicchiamo vedete che Premiere automaticamente ci informa che questo è il file esattamente identico con il nome identico a quello che lui pensava fosse presente nel nostro progetto ma è assente fatto questo clicchiamo su ok dal momento che gli altri file sono praticamente vicini al file che abbiamo appena ricollegato Premiere è intelligente quindi di conseguenza collega gli altri due file e come potete vedere tutto è tornato alla normalità in altre parole io che cosa ho fatto questi file originariamente non erano in questa cartella temporanea ma originariamente questi file erano nella cartella che ho creato apposta media offline trovandosi in una nuova cartella chiaramente Premiere è andato in confusione non trovando più i file che era solito trovare Premiere ha dovuto rompere il collegamento virtuale che esiste tra gli oggetti multimediale e questi che sono i file fisici del computer se torniamo adesso in Premiere visto che li ho rispostati Premiere inizialmente avete visto mi ha dato la schermata rossa ma nelle ultime release è sempre più intelligente da capire e da ricordare quali sono le posizioni in cui questi file potrebbero potrebbero esistere normalmente è in grado di scandagliare l'hard disk e trovare da solo i file mancanti ad un progetto se però questa operazione non gli dovesse riuscire vi viene presentata quella stessa finestra che avete visto prima e voi manualmente dovete informare Premiere della nuova posizione dei file questo è il caso se volete più semplice quando quando è che ci troviamo di fronte a questa situazione beh come abbiamo detto durante il corso di montaggio video con Adobe Premiere può capitare ad un montatore di dover condividere un progetto con altre persone perché magari si lavora in team ed altre persone devono mettere mano al vostro lavoro nel passare un progetto da un computer ad un altro normalmente non accade ma può succedere che Premiere non sappia individuare correttamente tutti i file multimediali rompendo appunto il collegamento che esisteva in precedenza grazie a questa operazione come avete visto molto semplice è possibile ripristinare il collegamento chiaramente c'è una condizione la condizione è quella che io ripeto ormai da diversi mesi chi sta seguendo il mio corso di montaggio video con Adobe Premiere è ormai anche stanco forse di sentirmi lo ripetere ma la condizione perché sia possibile ripristinare rapidamente e semplicemente un file multimediale riesca è che bisogna essere ordinato soltanto collegando il nostro materiale multimediale in cartelle ben organizzate ben segnalate è possibile in pochi secondi capire cosa è successo e ripristinare una condizione di lavoro ottimale se come purtroppo vedo fare da molte persone quando si monta in Premiere si prendono i file e si iniziano a spargerli come fossero acqua santa in tutto l'hard disk del nostro computer o negli hard disk del nostro computer queste situazioni di relink diventano molto più complicate perché dovete andare a cercare di fatto la posizione originale di questi di questi file che avete in qualche modo smarrito può accadere un'altra cosa e la simuliamo può capitare che per sbaglio cambiate modifichiate il nome di un file per esempio questo file lo chiamiamo pippo voi direte vabbè è un'operazione innocua sostanzialmente sto semplicemente rinominando un file sì ma Premiere vediamo se è abbastanza intelligente da capirlo no ecco vedete Premiere dice ehi io non trovo più il file l'ho perso come mi devo comportare ancora se vi compare questa finestra voi sapete che avete nominato il file pippo vedete che adesso io non mi ricordo dove ho messo il file in questione e per esempio se io adesso utilizzassi una funzione molto potente di Premiere che è il cerca Premiere ok sì perché questo file era presente in copia ecco ok è successo una cosa molto semplice io ho nominato questo file pippo però chiaramente questo stesso file che Premiere stava cercando io l'avevo messo in un'altra posizione quindi Premiere come potete vedere è abbastanza intelligente da scandagliare l'intero hard disk e individuare la presenza di un file che si chiama allo stesso modo in questo caso il file lo avevo già utilizzato per un altro tutorial e quindi Premiere mi dice guarda che quel file che tu in qualche modo mi hai spostato mi hai rinominato e che io ho perso si trova in quest'altra cartella cosa faccio lo linko sì volendo potete utilizzare se avete quel file in un'altra cartella potete rilincare serenamente se siete sicuri che questo è il file che state cercando ma nel nostro caso facendo finta che non è questo il file che noi stiamo cercando noi dobbiamo andare a cercare sostanzialmente il file che abbiamo appena rinominato vi ricordate si trovava nella cartella media offline se non ricordo male eccoci qui chiaramente questo bottone premuto non ci aiuta in questo caso perché avendo rinominato il file non troverà mai l'esatta corrispondenza ecco sappiamo che il file che noi abbiamo rinominato è pippo.mov se lo selezioniamo premiamo ok e il link chiaramente viene ristabilito questa dimostrazione che ho appena fatto vi dà la prova che bisogna essere ordinati evitate di copiare lo stesso file in più cartelle perché se per esempio vi dovesse succedere quello che è accaduto a me ovvero di dover rinominare un file spostare un file e poi fare questa operazione di relink premiera automaticamente vi ritrova magari lo stesso file ma in un'altra cartella che magari nemmeno sapevate esistere quindi insomma in sintesi siate ordinati soltanto con l'ordine e sapendo quello che state facendo e dove avete il materiale potete minimizzare i danni di una situazione del genere ma ci sono situazioni leggermente più non complicate ma articolate facciamo un esempio io ho appena scollegato manualmente un file dal progetto di premiere per scollegare un file è sufficiente selezionare il file che si vuole scollegare tasto destro del mouse e bisogna premere l'opzione rendi non in linea così ecco qua chiaramente premiere ci dà la possibilità di eliminare il file fisico presente sull'hard disk cosa che io sconsiglio caldamento semplicemente rimuovere il collegamento premiamo ok come potete vedere abbiamo reso praticamente offline due file del nostro progetto dicevo questa è la situazione più articolata perché se per qualche motivo vi doveste trovare in questa situazione quindi di oggetti multimediali che non hanno più un collegamento con il file originale del vostro computer non appare in questo caso la finestrella magica che ci dà una mano a risolvere come fare bene allo stesso modo di come abbiamo scollegato questi file multimediali cliccando con il tasto destro del mouse sopra all'oggetto potete trovare l'opzione per ricollegare i file multimediali indovinate come si chiama l'opzione collega oggetto multimediale bene clicchiamo vedete che compare sostanzialmente la stessa identica finestrella che abbiamo visto prima non solo se io seleziono tutti e due i file multimediali tenendo premuto control sulla tastiera e a questo punto faccio tasto destro del mouse sopra uno di questi due file e scelgo collega oggetti multimediali vedete che la finestrella di prima ricompare con l'elenco di entrambi i file che in questo momento ho selezionato e che vorrei ricollegare ecco una volta che è tornata questa finestra è molto semplice ricliccare su individua ecco a questo punto dobbiamo capire dove erano questi file multimediali io so che si trovano dentro a media offline clicco sulla casella visualizza solo nomi identici sappiamo che in questo caso premiere chiaramente cerca un file alla volta sta cercando questo primo file lo seleziono premo ok e il lavoro lo fa poi in automatico il software rilincando tutti gli altri tutti gli altri oggetti multimediali in sintesi chiudendo questo tutorial extra come evitare che i video di premiere vadano offline chiaramente ripeto il fatto che qualche media possa andare offline sappiate è comune quindi non vi dovete preoccupare eccessivamente ma esistono delle precauzioni da prendere sicuramente sempre quando si lavora in qualunque software di montaggio questo e in particolar modo con adobe premiere regola numero uno cercate di organizzare sempre il materiale in cartelle gerarchicamente coerenti lo abbiamo già detto nel corso di montaggio video con adobe premiere se dovete fare un montaggio del matrimonio del vostro migliore amico la cosa migliore è creare una cartella genitore chiamata matrimonio di giovanni dentro la cartella matrimonio di giovanni create una seconda sottocartella chiamata materiale video per esempio oppure media file dentro a quella cartella andate ad inserire tutti i file che vi servono per il montaggio create poi un'altra cartella subito sotto la cartella matrimonio giovanni chiamata per esempio export chiamata rendering chiamata grafica insomma dividete il materiale in cartelle in maniera tale da sapere sempre dove il vostro i vostri file sorgente sono memorizzati un secondo consiglio che do per evitare problemi sempre con premiere è di salvare una copia di backup dell'intero progetto soprattutto se lavorate in progetti grandi complicati e articolati non è diciamo una sfortuna ma può capitare e capita credetemi che per qualunque motivo il vostro progetto piuttosto che i vostri file multimediali vadano persi non so uno sbalzo di corrente mentre state lavorando e la testina dell'hard disk brucia magari qualche qualche file e non lo riuscite più a recuperare in questi casi estremi chiaramente non funzionano i collegamenti che abbiamo visto oggi le funzioni che abbiamo visto oggi se un file è danneggiato è danneggiato e non si può fare nulla però se vi siete salvati una copia di backup del vostro materiale sorgente del vostro progetto in generale grazie agli strumenti che avete visto oggi è possibile ricollegare i nuovi file o addirittura copiarli con la stessa struttura con lo stesso nome nella posizione in cui si trovavano prima e Premiere automaticamente torna a vivere quindi la buona abitudine di avere un backup vale sempre ancora evitate di rinominare chiaramente e spostare i file originali archiviati sul proprio computer dopo averli importati in Premiere come avete visto se io sposto un file o lo rinomino il collegamento viene perduto quindi se state lavorando ad un progetto e iniziate a spostare i file o a rinominarli state molto attenti perché chiaramente poi soprattutto se li rinominate diventa molto difficile poi ricollegarli avete visto che Premiere riesce a individuare un file se si trova in un'altra cartella ma se voi rinominate il file poi dovete farlo manualmente cercando di essere sicuri di fare il collegamento corretto l'ultimo consiglio che do è quello di non lavorare mai in storage remoti o condivisi a meno che chiaramente non si abbia il controllo della situazione e si abbia il controllo esclusivo dello storage che vuol dire vuol dire che purtroppo anche qui vedo spesso in ambienti anche di lavoro tante persone che lavorano in Premiere con dei file multimediali presi direttamente dalla rete aziendale con magari una cartella condivisa su un altro computer evitate di lavorare su cartelle condivise in remoto perché chiaramente la connettività deve essere ottimale per poter lavorare con file presenti su un server ci sono situazioni in cui ciò avviene per esempio però nel 90% dei casi sono poche le persone che hanno a disposizione un hard disk veloce e remoto e una gigabit LAN per poter gestire la grande quantità di dati che necessita Premiere per poter lavorare quindi in generale evitate di lavorare su storage remoti senza contare il fatto che se qualche vostro collega magari involontariamente rimuove i file su cui voi state lavorando ecco che automaticamente voi perdete i link Premiere perde i link ai file multimediali e voi dovete rinunciare a lavorare a meno che non vi siate fatti una copia di backup ad ogni modo il mio consiglio è sempre quello di lavorare sul proprio computer possibilmente su un secondo hard disk o su una seconda partizione visibile a tutti gli utenti di quel computer credo di aver detto tutto se mi fosse dimenticato qualcosa sicuramente la trovate scritta in questo articolo sul mio sito internet www.fabiabrosi.it dico sempre se volete commentare a fondo articolo c'è la possibilità di farlo basta cliccare sul vostro campo e chiaramente scrivere il vostro commento per fare domande richieste suggerimenti aggiunte magari ho dimenticato di dire qualcosa o ho detto qualcosa di inesatto potete commentare tranquillamente così come potete commentare video qui sul canale youtube iscrivetevi se non lo avete ancora fatto appuntamento al prossimo video ciao e buon proseguimento e buon Grazie a tutti.